Voi siete turisti qua in visita al Santo e a Padova. Quanto tempo vi fermate e come state trovando Padova? Ah, bene, bene. Mi è piaciuto molto il restito di San Antonio, la chiesa. Mi è piaciuto molto. Siete venuti apposta perché tra poco sarà la festa di San Antonio, la ricorrenza, oppure, insomma, è una scelta casuale? È una scelta casuale. Siamo stati a Venezia e poi siamo venuti qua per visitare questa chiesa. Quindi state qua un giorno? Sì, sì, sì. Un giorno, insomma. Ascolta, i prezzi di Padova ti sembrano alti? Come li trovi? Ah, questa è una cosa magnifica. Si trovano tante cose lì, il resto di San Antonio, anche la lingua di lui. È un miracolo, un vero miracolo che queste cose esistono ancora.